Disputa questa mattina in viaggio ovvio a Como tra i residenti della Corte al Civico 3 e gli organizzatori del mercatino obbistico Ibele Fahaman, che avevano sistemato le bancarelle come previsto dai permessi rilasciati dagli uffici, ma ostacolavano l'uscita dei mezzi delle persone provenienti dall'edificio. È stato necessario l'intervento della polizia locale per calmare gli animi e riportare la tranquillità. La polemica è scoppiata già all'arrivo degli espositori. I residenti avevano affisso un cartello stampato direttamente dagli abitanti della Corte per invitare gli ambulanti a non oltrepassare un ipotetico limite segnato dagli stessi residenti. Gli stand degli espositori sono stati invece posizionati dagli organizzatori del mercatino in modo diverso, come previsto stando agli stessi referenti delle bancarelle, dalle autorizzazioni. Inevitabile il braccio di ferro con i residenti che per uscire dal cortile si vedevano costretti ad imboccare la via Giovio contro mano e hanno chiesto l'intervento della polizia locale. Gli agenti sono quindi intervenuti e hanno ascoltato le parti, rimaste ciascuna sulla propria posizione. I vigili hanno comunque riportato la calma e nonostante qualche malumore sia rimasto, i venditori delle bancarelle hanno proseguito la manifestazione. L'evento dovrebbe essere ripetuto anche nelle prossime settimane e i residenti hanno chiesto quindi un posizionamento più corretto per evitare i disagi.